Musica Bagnante in difficoltà, soccorso da due elbani. L'episodio è accaduto domenica scorsa a Norsi in un tratto di spiaggia privo di assistenza ai bagnanti. L'uomo che faceva snorkeling è andato nel panico ed è stato provvidenziale l'intervento dei soccorritori. Silverer ha ancora agevolazioni per studenti e pendulari della sanità. Per i giovani elbani e le tariffe speciali su Firenze e Pisa se ne aggiunge una sullo scalo di Milano Linate. Per i lavoratori della sanità le agevolazioni saranno sugli scali toscani. Stop allo spreco dell'acqua a Marciana Marina. L'ordinanza del sindaco Ciumei vieta l'utilizzo di acqua potabile per uso non domestico. Sanzioni fino a 500 euro per chi irriga o rabbocca piscine. L'allarme di Enel, attenzione all'email truffa. Attraverso la posta elettronica si riceve una bolletta che invita a cliccare un link che rimanda ad un sito clone di truffatori informatici. L'azienda è un virus informatico. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione dell'Isola d'Elba. Questa sera apriamo con la cronaca. Un bagnante in difficoltà è stato soccorso da due elbani. L'episodio è accaduto domenica scorsa a Norsi in un tratto di spiaggia privo di assistenza ai bagnanti. L'uomo che faceva snorkeling è andato nel panico ed è stato provvidenziale l'intervento dei due soccorritori. Vediamo il servizio. Un gesto provvidenziale di due elbani ha evitato il peggio ad un turista. È successo domenica 12 luglio sulla spiaggia di Norsi ma la notizia si è diffusa solo in queste ore. Un uomo di età intorno ai 65 anni stava nuotando con la maschera al largo della spiaggia quando ha probabilmente ingerito dell'acqua ed è andato nel panico iniziando a chiedere aiuto. In spiaggia qualcuno lo ha notato insospettito soprattutto dal fatto che nonostante l'apparente difficoltà l'uomo cercasse di nuotare verso il largo anziché verso la riva a causa di un molto probabile stato confusionale. Per sua fortuna sulla battigia c'erano due persone abili nuotatori ed in buone condizioni fisiche che non hanno esitato ad intervenire gettandosi in acqua e raggiungendolo in poche bracciate. L'uomo era in evidente stato confusionale probabilmente in preda ad un attacco di panico ma si è fortunatamente ripreso prontamente. Assistito anche dalla moglie che era rimasta impietrita sulla riva. Il 65enne del quale non si conoscono le generalità ha preferito evitare ogni tipo di assistenza medica compresa la chiamata di un'ambulanza. Parliamo ora di Silver Air. Alle agevolazioni per studenti si ne aggiungono altre e si aggiungono anche quelle per i pendolari della sanità. Per i giovani elbani infatti alle tariffe speciali su Firenze e Pisa si vanno ad aggiungere anche quelle per lo scalo di Milano-Linate. Per i lavoratori della sanità le agevolazioni saranno sugli scali toscani. Per incentivare, dicono dalla compagnia, le professionalità più importanti di questo delicato settore e rimanere legate al nostro territorio. Sono sempre i più giovani, nella fattispecie gli studenti, ad utilizzare con maggiore frequenza il trasporto aereo per gli spostamenti da e per l'Isola d'Elba. Fra i 60 e i 70 giovani studenti elbani infatti sono ormai stabilmente fra i clienti di Silver Air, la compagnia che gestisce la continuità territoriale fra l'Isola d'Elba e gli aeroporti toscani di Pisa e Firenze, usufruendo delle agevolazioni tariffarie messe a loro disposizione. La richiesta, fra l'altro, si sta allargando anche ad altre destinazioni. Per questo la compagnia su sollecitazione di volare Elba, la società locale che partecipa al 49% di Silver Air, ha deciso di allargare la promozione a favore degli studenti anche sulla tratta Lapila-Milano-Linate. Gli studenti interessati, mostrando ovviamente le proprie credenziali all'atto della bigliettazione, potranno usufruire di un prezzo speciale di 70 euro a tratta, con un ulteriore sconto del 10% in caso di bigliettazione andata e ritorno. La promozione ovviamente è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le novità per Silver Air non finiscono qui. Abbiamo riscontrato dalle nostre statistiche, afferma Vincenzo Gorgoglione, presidente di Volare Elba, che molti dei nostri passeggeri sono lavoratori pendolari del settore sanità. Abbiamo pensato quindi di proporre un'agevolazione anche a questa categoria di persone, ritenendo doveroso incentivare le professionalità più importanti di questo delicato settore a rimanere legate al nostro territorio. Per questo è stata predisposta per i lavoratori del settore sanità una tariffa speciale che prevede un costo di 45 euro a tratta sullo scalo di Firenze e di 40 euro su quello di Pisa. Anche in questo caso l'agevolazione sarà valida previa presentazione della documentazione necessaria e dopo verifica della disponibilità dei posti. Siamo in un periodo in cui lo spreco dell'acqua è sempre più elevato. Lo spreco, l'uso dell'acqua è più elevato, ma proprio per evitare gli sprechi, Marciana Marina ha emesso un'ordinanza del sindaco Ciumei che vieta l'utilizzo di acqua potabile per uso non domestico. Si parla di sanzioni fino a 500 euro per chi irriga o per chi rabbocca piscine. A Marciana Marina scatta il divieto di utilizzo di acqua potabile per uso non domestico. L'ordinanza, firmata dal sindaco marinese Andrea Ciumei, arriva dopo le raccomandazioni di ASA dei giorni scorsi a non sprecare acqua visti consumi medi e elevati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un provvedimento adottato a causa delle elevate temperature di questo periodo con punte massime di 6-8 gradi sopra i valori medi e la preoccupazione che ciò possa durare molte settimane. Il comune marinese ha ritenuto opportuno quindi regolamentare il consumo dell'acqua proveniente da concessioni pubbliche. È vietato, si legge nell'ordinanza, usare acqua potabile erogata su concessione dell'azienda ASA per usi non domestici. È pertanto vietato usare acqua potabile proveniente dall'acquedotto consorziale per l'innaffiamento o irrigazioni di orti o giardini, il riempimento o il rabocco di piscine, il lavaggio di veicoli. I trasgressori verranno multati con sanzioni da 51 a 516 euro. Saranno gli agenti della Polizia Municipale e le forze dell'ordine a vigilare per il rispetto dell'ordinanza. Attenzione alle truffe, l'allarme arriva da Enel che dice fate attenzione alle mail truffa infatti, perché attraverso la posta elettronica si possono ricevere bollette che invitano a cliccare ad un link che rimanda ad un sito clone di truffatori informatici. L'azienda dice fate attenzione perché è un virus informatico. Internauti dell'Elba, prestate attenzione. In questi giorni sta circolando da un indirizzo apparentemente riferito a una società del gruppo Enel una e-mail dal contenuto ingannevole. Il destinatario riceve una bolletta ed è invitato a cliccare un link che rimanda a un sito clone di truffatori informatici. Questa e-mail non è stata inviata da Enel Energia né da Enel Distribuzione né tantomeno da altre società del gruppo Enel o da soggetti a esso incaricati. Si tratta di un tentativo di raggiro simile a quelli più volte denunciati da altre aziende e istituti finanziari. Cliccando infatti il link riportato il cliente si collega al sito Trappola dove viene invitato a scaricare una finta bolletta che in realtà contiene un virus informatico molto potente che blocca il contenuto del PC. L'obiettivo è quello di chiedere poi un riscatto alla vittima dell'attacco per ottenere lo sblocco del PC e la decifratura dei dati. Enel invita chiunque e riceva questo falso messaggio a non cliccare il link segnalato. Le procedure non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari o codici personali attraverso link esterni. L'azienda, da sempre in prima linea contro le truffe, ha avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle società del gruppo Enel. Un incendio nella notte alla caletta ha distrutto l'ufficio del ristorante e sono stati evacuati per precauzione gli avventori del Bay Sound Caffè ma nessun danno è stato arrecato alle persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme probabilmente sono scaturite da un cortocircuito. Incendio nella notte al ristorante La Caletta di Porto Azzurro erano da poco passate le 1.30 quando dalla locale che si affaccia sulla Baia di Mola e confina con la strada provinciale per Porto Azzurro in realtà già chiuso mentre nell'attivo Bay Sound Caffè era in corso una serata musicale ha cominciato ad alzarsi un denso fumo e qualche lingua di fuoco. Fortunatamente qualcuno del personale ancora in servizio si è accorto dell'accaduto chiamando a raccolta il resto dei colleghi che si sono immediatamente attivati dapprima facendo evacuare per sicurezza tutte le persone che si trovavano ad assistere alla serata musicale e poi intervenendo con decisione con gli estintori e con le macchinette dell'impianto idrico sull'incendio che è stato velocemente circoscritto. All'arrivo dei vigili del fuoco è stato possibile accertare che le fiamme erano scaturite dall'ufficio probabilmente a causa di un cortocircuito proveniente dal quadro elettrico generale e danni avrebbero interessato esclusivamente i locali dell'ufficio stesso che è andato praticamente distrutto insieme al computer e al modem. Fortunatamente non si è registrato nessun danno alle persone. E rieccoci in studio e parliamo di Capoliveri che ha previsto una ZTL nella strada comunale fra la città e la zona di Mola. Il provvedimento entra in vigore venerdì prossimo. Il comune parla di messa in sicurezza di una strada di ridotte dimensioni. L'accesso è consentito però a tutti coloro che abitano in zona con alcune deroghe che vediamo nel servizio. Con l'ordinanza sindacale del 14 luglio il comune di Capoliveri ha deciso di porre in sicurezza il tratto di strada comunale che dal cimitero del paese conduce fino alla strada provinciale di fronte all'hotel Pilade che per sue stesse caratteristiche presenta una carreggiata di ridotte dimensioni rispetto al costante intensificarsi del traffico che la interessa. Il provvedimento adottato d'urgenza con la firma del sindaco Ruggero Barbetti cambia le modalità di accesso alla stessa che da venerdì prossimo sarà regolamentato come ZTL a doppio senso di circolazione consentendo il transito solo ad alcune categorie di utenti. Alla ZTL potranno accedere tutti i cittadini proprietari di immobili, i titolari di contratti di affitto e i titolari di diritti reali su immobili il cui accesso avviene dalla strada. Inoltre in dergo ai divieti potranno accedere veicoli al servizio di invalidi purché muniti di apposito contrassegno, i veicoli in servizio di emergenza, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, i veicoli istituzionali e chiunque esibisca apposito permesso rilasciato dal corpo di polizia municipale. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie come disposto dal codice della strada che vanno da un minimo di 80 ad un massimo di 335 euro. Per ogni informazione sulla nuova ZTL il rilascio di donne e autorizzazioni in merito sarà possibile rivolgersi al corpo di polizia municipale di Capoliveri. Ci spostiamo ora nel versante occidentale precisamente a Marciana dove nel weekend parte il servizio EcoStop. È un sistema di centro di raccolta mobile dei rifiuti che il sabato e la domenica raggiungerà tutte le frazioni del comune. Da questo fine settimana in tutto il territorio del comune di Marciana partirà il nuovo servizio EcoStop della raccolta differenziata. Si tratta di un sistema di centro di raccolta mobile spiega una nota del comune per supplire la carenza temporanea dell'isola ecologica. Un servizio pensato in seguito alle numerose lamentele dei giorni scorsi da parte della cittadinanza e un modo per andare incontro alle esigenze dei turisti dei proprietari di seconde case che lasciano l'isola proprio nel fine settimana. EcoStop è un servizio aggiuntivo a supporto della normale raccolta porta a porta attivo in tutte le frazioni del comune il sabato e la domenica che stazionerà per circa un'ora in punti fissi prestabiliti e potrà raccogliere tutte le tipologie di rifiuto secolo riciclabile, carta, umido, vetro e multimateriale leggero. I cittadini, continua la nota potranno consegnare l'apposito sacchetto o il proprio contenitore all'operatore che raccoglierà il rifiuto all'interno del mezzo per il sistema EcoStop valgono le stesse regole della raccolta domiciliare ed è necessario conferire le varie tipologie di rifiuto secondo le modalità indicate nella guida della raccolta differenziata non sarà quindi consentito il conferimento di sacchi di indifferenziata con materiale riciclabile non separato al suo interno invitiamo la cittadinanza conclude la nota a controllare il giorno e l'orario di raccolta nel calendario per trovare la fermata di EcoStop più vicina per il calendario è possibile contattare il comune di Marciana ci sono stati dei ritardi nell'apertura dei campi solari a Rio Marina ospitati nella canonica di Rio nell'Elba i campi però non sono potuti partire ugualmente a causa di un tubo dell'acqua che era stato staccato da oggi però i 30 bambini sono nella struttura deputata la scuola elementare di Rio Marina è slittata ad oggi 16 luglio l'apertura dei campi solari di Rio Marina un ritardo di alcuni giorni rispetto alla data stabilita che ha causato la lamentela da parte di una mamma che sapeva che i campi dovevano iniziare il 13 luglio nei locali della scuola elementare in via Principe Amedeo già al momento dell'iscrizione racconta la mamma sapevamo che la scuola di Rio Marina non sarebbe stata disponibile dal primo di luglio data in cui solitamente iniziano i campi solari a questo punto è diventato fondamentale l'aiuto del comune di Rio nell'Elba che ha dato la disponibilità di alcuni locali della chiesa una stanza ed una terrazza pur di far iniziare l'esperienza sembrava che tutto fosse predisposto ma arrivata la data della consegna dei locali idonei ad accogliere circa 30 bambini dai 2 ai 10 anni le chiavi sono state consegnate in ritardo genitori e bambini racconta la mamma sono stati lasciati in attesa sul marciapiede adiacente alla scuola e non è tutto perché al momento di fare entrare i bambini ci si è accorti che l'acqua non c'era perché il contatore della struttura era staccato l'erogazione era stata interrotta in quanto la struttura da tempo non era utilizzata alla fine le due amministrazioni si sono messe d'accordo e i bambini possono iniziare i campi solari gestiti dall'associazione Dodo di Pistoia nella scuola elementare di Rio Marina si è concluso con successo lo Junior Summer Camp del Livorno Calcio 30 bambini per 6 giorni agli ordini degli allenatori a Maranto hanno completato una full immersion fatta di tecnica tattica ed attività ludiche la soddisfazione del progetto Giovani Isola d'Elba ripeteremo l'iniziativa anche il prossimo anno 30 bambini 4 istruttori dedicati a loro 6 giorni di vita comune a tempo pieno dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio si è svolto così lo Junior Summer Camp che il Livorno Calcio ha tenuto all'Isola d'Elba in collaborazione con il progetto Giovani Isola d'Elba culminato con un saggio finale e una festa di premiazione nella mattinata di sabato 11 luglio 2015 i ragazzi divisi per fasce d'età hanno alternato momenti di tecnica ed esercitazioni tattiche ad altri momenti ludici e di aggregazione alcuni di loro provenivano da fuori Elba uno addirittura dalla Francia quindi la settimana ha creato un gruppo decisamente vivace che si è divertito e ha raggiunto gli obiettivi che gli istruttori del Livorno Calcio si erano prefissati esprimiamo soddisfazione hanno commentato a fine corso i dirigenti del progetto Giovani Isola d'Elba per l'ottima riuscita dello Junior Summer Camp Livorno 2015 con il Livorno Calcio che ha riscorso unanimi apprezzamente sia per l'alto valore tecnico reso possibile dalla bravura degli allenatori della società Amaranto che per la parte organizzativa con particolare riferimento alla logistica la nostra società ci tiene a ringraziare il dirigente del Livorno Calcio ha detto ai rapporti con le società affiliate Rinardo Carnevali il responsabile della scuola calcio Gigi Del Sordo e gli allenatori del Livorno Calcio Yuri Cannarza Simone Sireno Claudio Galici e il nostro responsabile del settore giovanile Pino Pilleri le infaticabili mamme Angela Squarci Donatella Burelli l'insostituibile Roberto Gava e il grande bomber Paolo Pulici per la gradita visita ai ragazzi ai quali ha regalato preziosi consigli alla luce della perfetta riuscita di questa prima esperienza il progetto Giovanni Isola d'Elba e il Livorno Calcio stanno già programmando per il prossimo anno un nuovo camp estivo ed altre importanti iniziative e questa era l'ultima notizia per questa nostra edizione vi ringraziamo per averci seguito e a tutti una buona serata e a tutti Autore dei sorrisi